Prima di partire con il video un breve messaggio Buon Natale a tutti Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Siamo tornati qui con Yu-Gi-Oh! Duel Links Per completare la fase 19 manca vincere un duello Duel World e vincere un duello contro Joy Wheeler livello 30 Qui c'è già un Joy Penso sia livello 30 No è livello 20 Quindi Se io vado ora Al cancello E sfido Joy livello 30 In teoria dovrebbe valermi sia Il duello Duel World Che il duello con Joy Wheeler In teoria Vediamo Bene inizierà l'avversario Quindi in teoria dovrei attaccare io per primo Pesco Io evoco il nobile cavaliere Artorigus In posizione d'attacco Per il momento resto così Vai Artorigus Termino il mio turno Allora Io sacrifico Il nobile cavaliere Artorigus Per evocare Il mio spadaccino Silente livello 5 Battelface Attacca Spadaccino Silente Termino il mio turno E' il mio turno Pesco Io evoco Samurai futuro In posizione di attacco Ma non è finita qui Evoco la carta magia Nobili armi Galatin E potenzio il mio spadaccino Silente Ma non è tutto ancora Attivo l'effetto della mia carta magia Nobili armi Caliburn E potenzio ancora di 500 E in più Mi prendo 500 life points Ma non è ancora tutto Perché evoco Attivo la mia carta magia Stendardo del coraggio Che mi dà 200 punti d'attacco Per ogni mostro che controllo Durante la battle phase Battle phase Samurai futuro Distruggigli la sua difesa E poi vai Spadaccino Silente Infliggi un danno di 4000 E Joy Wheeler va a KO Bene Vediamo se mi conta Entrambi Come sia duello o duele world Sì sì Allora Quindi Abbiamo completato la fase 19 Fase 20 E' completato tutte le missioni Puoi avanzare alla fase 20 D'ora in poi appariranno Fino a 7 duellanti standard Quindi andiamo a vedere Vincere le missioni da fare Per raggiungere la fase 21 Vincere 3 duelli contro Joy Wheeler Ok Vincere 3 duelli con Thea Gardner Vincere un duello Con Rex Raptor E distruggere 25 mostri Evoca 25 mostri Usa 15 Usa carte magia 15 volte Ok Un po' a lungo Non so se vedrete Vedrete questa fase Una prossima Nel prossimo video Dunque Per oggi è tutto Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Attivate la campanella Per non perdere i prossimi video Ciao ciao